Torna il 4 settembre a Pacentro la Corsa degli Zingari, edizione del 2022. Si torna all'antico dopo due anni che questa festa si era fatta in forma ridotta per via della pandemia. Finalmente si torna alla celebrazione di questo antico rito e al festeggiamento legato al culto della Madonna di Loreto nella pienezza dell'organizzazione. L'organizzazione è curata dall'omonima associazione Corsa degli Zingari e dalla confraternita della Madonna di Loreto che annualmente si occupano di organizzare sia la parte religiosa più legata al tema della Madonna di Loreto che alla parte di celebrazioni civili legato al rituale antichissimo della Corsa degli Zingari la quale appunto si svolge in occasione dei festeggiamenti della Madonna ma tradizionalmente occupa la prima domenica di settembre. Quindi si torna a vivere questo evento che è uno dei più caratteristici, più importanti all'interno del Parco Nazionale della Maiella e anche dell'intera regione Abruzzo. Un rito di tradizione antichissima e le cui origini sono ampiamente dibattute. Ultimamente un'ipotesi particolarmente interessante è quella sostenuta all'interno del libro che sarà presentato nell'ambito di quest'iniziativa del Parco qui oggi all'Aurum, un libro di Andrea Staffa, del dottor Andrea Staffa che appunto pensa di poter legare le origini di questa tradizione ai primi stanziamenti di etnia longobarda proprio nel territorio di Pacentro. Quindi una tradizione di origine germanica che segue i primi stanziamenti appunto longobardi legati forse anche alla fondazione stessa del paese di Pacentro in età alto medievale.